Se non altro per motivi di calendario, il Bitonto, per la stagione 2020-21, non dovrà più affrontare la Puteolana e così, finalmente, potrà sperare di tornare a far punti. Perché, un girone dopo e con una guida tecnica diversa in panca, l'epilogo della sfida con i campani è sempre il medesimo, sconfitta di misura. Di conseguenza, i padroni di casa tornano a sperare nei play-out. Gli ospiti segnano il passo, in vista dei play-off ormai lontani tre punti. Mister Valeriano Loseto retrocede in difesa alla posta geometrica di Biasson con Colella. In mediana, il piede fosforescente di Montinaro è accompagnato dai preziosi acquaioli Piarulli e Mariani. In attacco, il minaccio tridente triarico Lattanzio-Palazzo. Ceramella, sostituito in panchina da Iodice perché squalificato, si affida agli scaffati Riccio e Armeno, sistema cigliano e granata in cabina di regia, e Cegliento davanti ad inventare per Guarracino. Ne sortirà una pugna stramba, con i leoncelli prima timorosi, poi Garibaldini tanto da subire il gol e infine spegnersi, d'improvviso imbolsiti. Al settimo, un colpo di testa di Guarracino è di molto fuori misura. Al quarto d'ora, Bomber-Palazzo manca la zampata vincente sul centro sgusciante di Lattanzio. Minuto 25, fuori di un soffio la sciabolata radente di Montinaro, che era sgommato via ad un nugolo di avversari. A due dalla mezza, un destro di triarico non proprio memorabile. Imbeccata di Lattanzio per Palazzo al trentaduesimo, mancino alto. Sessanta secondi e ci riprova il nove Bitontino, il fondo accoglie ancora una volta il cuoio. Il punto che spacca il match al minuto 39, Granata inzucca su punizione della tre quarti di Cigliano e fa secco Zinfollino. Subito dopo, prova a ruggire il Bitonto, ma Palazzo si incartoccia sulla sfera. Dopo l'intervallo, in ferace sarà il predominio dei neroverdi. Al quinto, cross Viperino di Sardo, inchioda sul prato alla sfera Zinfollino. Giro di lancette e assist illuminante di triarico per Montinaro. La conclusione esce d'un sospiro. A cavallo del quindicesimo, botta di Dublino che sorvola la traversa sfiorata, è destro di Cigliano dal limite, centrale. Poco prima della mezza, piazzato a giro di triarico, alto. Lattanzio al trentaquattresimo lavora un pallone invitante per Taurino, piatto troppo cortese per Romano. Infine, al primo di recupero, il destro disperato di Esposito e il giusto sigillo ad una prestazione svigorita e incolore dei Bitontini.